Siamo con il Presidente nazionale della Federcaccia, Gianluca Dall'Olio, il giorno dell'Assemblea nazionale a Roma, un'assemblea che sta procedendo nel migliore dei modi e che è iniziata stamattina con l'onorificenza di cacciatore gentiluomo dell'attività venatoria, ad un grande della caccia italiana, Michael Ebner. Sì, non soltanto grande come cacciatore ma rispettabilissimo come uomo politico in quanto da anni, oltre ad aver partecipato già nel 92 come deputato del Sud Tirolo alla modifica allora della legge sulla caccia, quindi divenendo all'approvazione della 157 ma poi anche in seguito per tutto l'impegno che ha posto nell'intergruppo caccia, pesca e attività rurali nel Parlamento europeo, insomma credo che da anni i contenuti del linguaggio di Ebner dovrebbero essere un riferimento per tutti i cacciatori italiani e soprattutto per chi, come noi dirigenti, devono condurre una partita espressa in termini di confronto politico con Stato, Regioni e province, quindi l'espressione di caccia sostenibile è molto facile a dirsi ma è un concetto che dovrebbe complementare un po' meglio la sensibilità e la cultura e la dialettica del confronto del mondo venatore italiano. E anche all'interno delle istituzioni perché sappiamo tutti che è in discussione la legge nuova sulla caccia, si parlerà di sostenibilità o almeno lo si spera, ha un messaggio da dare ai suoi tesserati per la fine dell'anno e soprattutto per il 2010? All'augurio di Natale aggiungo anche l'augurio che il Parlamento possa sviluppare una tesissima modifica e anche complicatissima e difficilissima modifica della 157, almeno nelle parti che necessitano di modifica, cioè quelle, ritornando al discorso di prima, che sono oltremodo sostenibili da tutte le parti sociali interessate. Grazie a tutti!